Ci siamo, ci siamo, siamo alla fine, l'ultimo mezzo, grazie di essere stati qui, siamo stati qua a marzo e siamo tornati presto, quindi va bene. Grazie a Kipon che ha organizzato questa cosa, ci ha dato anche 5 minuti in più rispetto ai 15 che ci hanno detto e grazie ancora davvero di essere qui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.